ciao a tutti amici youtube benvenuti qua su farming simulator 22 qui nella old stream farm ragazzi allora stiamo finendo quindi di passare in modo coltivatore a nel frattempo nel frattempo stiamo stiamo seminando l'orzo laggiù come vedete laggiù 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 stiamo seminando orzo ragazzi stiamo seminando orzo allora stiamo seminando l'orzetto laggiù allora poi 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 qui quindi semineremo l'erba ok allora allora qui mi richiede la calceviva raga la calceviva su sti campi ma fondamentalmente non ce l'abbiamo la calceviva è vero di ce la compro però sinceramente adesso a comprarla non mi pare il caso ma qui mettiamo un attimo l'operaio quindi la calceviva stavolta non ce la mettiamo qui non me la richiede e qui me la richiede rullo ok quindi passeremo il rullo adesso allora passeremo il rullo qui come stiamo messi c'è rimasta pochissima quindi dovremo passare il rullo allora allora qui questi semi allora io i semi adesso dove li appoggio dove li appoggio i semi questi si aprono? si che si aprono qui ci metteremo il metrotto di semi io li metterei sto punto qui allora potrei anche aspettavo un attimo aspettavo un attimo aspettavo un attimo raga allora aspettiamo un attimo perché io volendo come devo passare il rullo raga ok allora andiamo a prendere un attimo il rulletto i panni mi porto via i panni mi porto via i panni mi porto via i panni nel frattempo raga ho comprato anche tutto l'occorrente per per fare balle eh allora che adesso ci passiamo il uuuu mamma mia ok e tocca non tocca sto rullo ma non c'è scusate insomma sto rullo un angolo anche sinceramente eh ok adesso passiamo il rulletto ok ok allora aspetta mi dice rullo sto passando il rullo si mi dice non la piglia allora aspetta 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 incontri il rullo il rullo si ok adesso a me sto rullo sinceramente a me piace di due danni però ma io e niente meglio e niente e qui ci passiamo al rullatino sto rullo non mi piace a me raga sto rullo non mi piace mi sa che qua ci piace quello che non mi piace allora usando questo rullo vedremo allora 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 un attimo che vi faccio far mamma mia ora che ha sempre di corsa o sempre di corsa tutto di corsa tutto di corsa ok questa ci stampa di pietra stica allora 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 qui qui ho fatto tutto campo fatto ok qui invece calceviva raga ma io ripeto la calceviva adesso non ce l'ho non ce la mettiamo adesso dobbiamo fa questa perché questa è la il cotone io il cotone per adesso non mi serve quindi questo lo leviamo sicuramente lo leviamo sicuramente ok ok qui mi dice calceviva qui eh qui sta fa quello che dovremmo fa questo allora qui ci metteremo no l'erbaccia non ne ho detto che cresce non ho l'eumo dell'erbaccia eh e albaccia no aratura per erena già sì perché no io ho messo ma tu guarda che mi dice che c'è bisogno dell'aratura eh non mi dica che c'è bisogno dell'aratura perché mi è incavolo questo è finito non è questo che è finito è il John Deere che è finito ok allora John Deere che è finito allora andiamo a ricaricare andiamo a ricaricare farò due gambi a orzo visto che è piccolo faccio due gambi a orzo e a colza faccio quello più grande andiamo un attimo a ricaricare accendiamo il lampeggiante allora andiamo a ricaricare questo ragazzi no non ci metto questa mi sa che ricarichiamo poco allora andiamo a ricaricare questo ok ok come stiamo messi qui andiamo a ricaricare questo perfetto allora andiamo a pientare l'orzo sto pientare l'orzo non è che sto pientando l'orzo ok orzo andiamo a pientare l'orzo ok 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 non è che sto pientare l'orzo facciamo sempre un giro di capezzale un giro di capezzale perché meno l'operaio il suo lavoro fa il suo bel lavoretto mi va bene se non lo facciamo lo facciamo ok bene ragazzi il tempo è scaduto purtroppo noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avevi fatto clicca sulla campanella, spolleggiate e commentate e noi ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao